L'ho riambiato, l'ho messa prima il secondo, tanto funziona? Prima era 30. E bitrate? Mi sembra alto? Beh, fotogrammi bassi 0, quindi? Si, va bene. Quanto è il bitrate? Ah, funziona. C'è un'ottima scelta. C'è un'ottima scelta. C'è un'ottima scelta. Oh no, no, no. Ah tu, va bene? Il finito a cura di così, non mi sembra alla. E' un'ottima scelta? C'è? Preghati che cos'è? Non. Spileami bassi 0, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, educational, edusti. vengono a fare la streaming vengono a fare il livello di suo nome fai vedi a me? va così, segna così e infatti strano adesso vado, adesso vado perfetto che corte la voce anche da qui dove sono io eh sì, è il mio profondo del computer territorio oro ok, non c'è delay audio quindi direi tutto perfetto si dai, oro come il suo onore team 2 agli attaccio attacco e fermare il, sai, di Bowser Jr comunque, non ho aspettato che l'avessi battuto però quando poi ero spesso in India, era molto molto buono eh tutto 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 quello basso, lo stage molto neutral, è uno stage molto polarizzante anche se non so quanto è polarizzante questo match up, che aveva Bowser Jr ti lo conosce eh, ma lo stage molto neutrale ok ok il minimo punito così di gridi adesso però Dialga ha il GO a malapena, vedi, se non riuscirà ad usarlo dash attack parte di Dialga con questo ottimo uso del GO e la seconda era stock prima di 100% il jab è c'è un po' da rafting, c'è un po' da rafting Tiaga ha fatto un bel power geyser che gli ha preso un salto a full bone no lei doveva metterci una peri non stava meglio andiamo oh trovo zappato però Dialga con l'auto turn around che ci fai questo jab anche essere sfidati a girarsi da soli quando abbiamo l'auto turn around oh no, sono i grapp la ah, io ci ho provato ah, poteva pulirlo eh si oh ok la sgommata la sgommata adesso Dialga ha finito l'uso del GO non l'ha potuto usare una seconda volta per prendere magari una seconda a chiederli però attenzione partono le combo mamma mia oh 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 sul Baga ben 67% adesso questa lì si stende ancora al 90% su Dialga probabilmente ha visto tutto recuperato sul Baga probabilmente ha visto qualche video di TMZap che ha fatto la combina appena 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 sul Baga ha visto qualche video di TMZap TMZap TM7 andro a scorsa andiamo dove il Mecha Koopa ecco ok non è tornato in tempo ancora full Baga è ancora vivo che fa di Vega no, è che vuole fare il FUTMISTAP se lo prepara in caso vuole scacciare ok facciamo due dei e parola con le suoi esponenti la roll l'idea non era sbagliata era un po' troppo tardi e adesso le stock sono even con Mecha Koopa ottima pressure con il banner of fair un altro un terzo e full Baga sul 2-0 balser balser jr win un altro più in un 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 come on y'all ... ... ... ... Non c'è un'altra leggera. Non ti prendo il mio. E' il mio perché... Non ti prendo la persona. Che fai, non ti prendo la persona. Non ti prendo la persona. Non ti prendo la persona. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Fetano è in sito E questo sarebbe Lo stage molto buono Per Dialga Se dovessi indovinare Perché veramente Queste kill ai lati Con jump jump power dunk Gli potrebbero servire Quanto è stanno in ora? 2-0 per Baka No Baka non mi metterò Prova con left smash Invece tocca usare il java Però potrebbe morirci E' ancora vivo Grazie al suo peso Non più Non più Lo lascia tornare Fullback si porta in vantaggio A 2 stop della vittoria ormai Non male Un onesto 24% Prima di essere interrotto Di Dialga Vabbè Zero lag Prende questo salto Con un ottimo fair L'azione di Dialga A più quanto meno A navigare Queste cannonate Da un B finalmente Riesce a prendere la kill E riporta le stocca di Iver Assolutamente Non un game Non un set Dovrei dire In cui Dialga È da puntare fuori Perché Queste combo Possono anche venire Dalla parte del Terry Scudo inizia ad essere un po' bassino Però non è in auto Diciamo La voglio andare per la scumma Per provare uno shield break A non dobbiamo andare ancora Un po' troppo alto Scudo Ottimo Se il video Prendere l'auto Posso riportare un match? Fa pure Sì Raffa Ba Scusate Non Raffa Ba Scusate Galax Ligrefit Galax 3 Ligrefit 1 Così Sì esattamente Grazie Il game Hai vinto? Game primo Sì Game primo ero io Olimar sempre E lui? Lui Primo game Era Captain Falcon E il resto Era Palo Ok Perfetto Grazie Prego Icefoot Di alca ha una stock Ok Aia Adesso anche full backup Incredible Quando ho già chi porri? Tanta e calma Quando vuoi? Manca te la stock Eh bene Aspetta Non ti dimentico È naiva WTF Me lo dimenticavo WTF Aia 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 La grab Tiaga potrebbe recuperare Questo game 3 Left smash Riuscola prendere Lo spot dodge Però adesso arriva il go Buster wolf È ancora vivo Comunque è un pg Brustanza pesante Bowser junior a gg 3 a 0 però furbacca anche di agro comunque la tenuta molto a 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